Al grido, la buona scuola siamo noi, circa 500 lavoratori delle scuole del Veneto hanno manifestato a Venezia nel giorno dello sciopero per il rinnovo del contratto scolato nel 2009. Non è solo una questione di soldi, è anche una questione di rivedere tutti quanti i nostri profili professionali, mettere insieme condizioni più dignitose per i lavoratori e maggiore qualità per il servizio scolastico. Radunati al terminal automobilistico di Piazzale Roma in un variopinto corteo, i lavoratori hanno percorso un breve tratto a lato del Canal Grande per fermarsi in campo San Geremia dove hanno gridato più volte la parola contratto. Io voglio dire alle persone che mi ascoltano, se esiste un luogo di lavoro dove il datore di lavoro ti dice lui quante ore devi lavorare, che retribuzione ti devo dare, che corsi di aggiornamento ti faccio e quanto, che tipologia di orario devi fare, perché questo sta facendo il governo che si stupisce. Oltre a non accontentarsi del bonus Renzi e a chiedere ulteriori risorse in busta paga, gli insegnanti protestano contro il precariato, la chiamata diretta da parte dei presidi e le altre norme contenute nella legge sulla buona scuola. C'è anche una dignità delle persone lavoratrici, forse nel mondo della scuola si sta pensando che i lavoratori della scuola non abbiano bisogno di essere rispettati e di fare il loro lavoro con dignità. Tra il coro di ostentata indignazione non manca comunque chi riconosce che tutto sommato gli insegnanti non sono tra le categorie che se la passano peggio in Italia. Purtroppo è vero, stiamo vivendo un momento in cui forse il dipendente pubblico ha maggiori garanzie rispetto ad altri, ma questo non vuol dire essere calpestati, perché purtroppo la vita è dura e pesante per tutti.